Buonasera abitanti nel mio mondo e quando dico buonasera dico letteralmente buonasera perché probabilmente questo qua sarà il primo video se non l'unico video che uscirà di sera per restare comunque nel mood e per farvi anche un po' cagare sotto uscirà sì e no alle nove e mezza dieci questo ovviamente è tutto quanto da decidere è da un bel po' di tempo che volevo fare un video del genere letteralmente una settimana dopo l'uscita appunto di questo video vecchio che risale tipo a due anni fa dove era letteralmente io che scaricavo il video di tranne te parodia fatta da by angel tube che vi lascio anche sopra la parodia originale ma siccome io ai tempi non avevo le credenziali giuste per fare un video del genere ho deciso di farlo in questo momento adesso che ho le luci giuste la videocamera giusta il microfono giusto il computer giusto è che non vogliamo cogliere appunto questa occasione di registrare un video appunto a temarlo non uscirà di halloween si lo sto registrando ad halloween prima di procedere con la visione del video ci tenevo a dare dei grandissimi complimenti a me stesso perché credo di essere in tutta quanta youtube italia l'unica persona che è riuscito a registrare un video il 31 ottobre quindi in tema halloween e a farlo uscire a dicembre lo so mantengo sempre le promesse vi dico in anticipo che se voi appunto siete sensibili a queste cose voi avete avuto un'infanzia ricca di generi musicali di qualsiasi tipo di canzone esistente sulla faccia della terra stoppate la visione del video io me la sono già distrutta appunto facendo questo video quindi in realtà ci sarà anche un piccolo sfotto negli ultimi due minuti di video per il semplice fatto ragazzi che ok si questo qua sarà un video analisi di questo movimento che è iniziato addirittura dal secolo scorso fino adesso però non è detto che io appunto sia pro o contro questo movimento sarà senza dubbio meno spaventoso rispetto a me senza barba comunque lasciamo perdere questi scherzi inutili iniziamo subito col video vero e proprio sicuramente chi avrà letto e ho percepito con più attenzione il titolo non si sarà posto alcun dilemma su cosa si sarebbe andato a parare ovvero niente po' di meno del fenomeno backmasking in effetti ci è quasi sempre sembrato facile arrivare al concetto chiave di una canzone se ascoltata come è stata effettivamente rilasciata ma che succederebbe se noi decidessimo di ascoltarla in senso anti-orario fino ad oggi più di un milione di ascoltatori sono arrivati a condividere questa nuova visione musicale nelle varie piattaforme youtube ne è un esempio andandolo a riportare o a far scoprire ai meno informati le loro scoperte tratte da altre canzoni che fino ad allora erano sconosciute pochi però sanno da quanto tempo e soprattutto da chi è partito questo movimento e la risposta è nient'altro che la famosissima iconica band inglese Beatles siamo nel 1996 nuova serata di registrazione per il loro settimo album Revolver John Lennon sotto l'effetto di alcune drogue aveva accidentalmente riprodotto il brano Rain al contrario che guarda caso lo trovò molto gradevole il giorno seguente condivise questa sua nuova scoperta con gli altri membri del gruppo e da lì un po' per curiosità ci provarono con altre due canzoni scelte casualmente aggiungerei ovvero Revolution 9 e I'm So Tired anche se la messa al contrario di questi brani non portò nulla di positivo anzi non fece altro che alzare le possibilità del fatto che secondo molti fan loro non siano più un quartetto da molti anni per farvi capire meglio la cosa vi metterò a schermo le relative canzoni e il risultato che noi otterremo dopo averle messe al contrario numero 9 Chi non segue da pochissimo tempo l'industria musicale riconoscerà perfettamente la leggenda metropolitana per quanto riguarda Paul McCartney, che si diceva che avrebbe perso la vita in un incidente stradale e sarebbe poi stato sostituito da un sosia. Il ciò spiegherebbe l'improvvisa trasformazione tra un album e l'altro dell'artista stesso. Ebbene sì. Dopo tutto questo preambolo per raccontarvi come è iniziato il backmasking e come si è evoluto nel tempo, è il caso di fare quella cosa che vi ho citato all'inizio del video, ovvero esprimere il mio modesto parere su tutto questo, sia sul fatto se è giusto o sbagliato, ma anche delle persone che vanno dietro a questa cosa qua. Chiaramente non sta a dare la colpa ai Beatles, non avrebbe assolutamente senso perché data la storia che vi ho raccontato prima, se non fosse successo i Beatles ci avrebbero pensato altre band e se non fossero state quelle band o quei determinati cantanti ci avrebbe pensato il pubblico più avanti. Ammettiamolo. Noi siamo sempre un pubblico ricco di curiosità, abbiamo sempre questa voglia di scoprire e sentire soprattutto robe nuove, dato che siamo in tema musicale. E quando noi siamo nel punto in cui scopriamo quella cosa, andiamo oltre come non mai. Veramente ragazzi, vedere persone al giorno d'oggi che credono che ogni cantante, ogni band ci metta così tanto per rilasciare nuovi singoli, è perché non appena lui finisce di scrivere una canzone ne riscrive un'altra, per far sì che anche al contrario possa avere il vero significato della canzone. Cioè capite effettivamente a che livelli noi siamo arrivati. Non lo fanno tutti, per fortuna, anche se sono molto più poche le persone che non lo fanno, piuttosto che quelle che lo fanno. Io riesco a riconoscere quando c'è un ascoltatore che ne sa di musica, invece quando c'è un ascoltatore che lo ascolta soltanto così. Stessa cosa posso dirlo su chi mette la canzone al contrario. E tramite il significato che riesce a percepire, spaccia quella band o quel cantante come segreto satanista. Io in primis effettivamente ve ne posso parlare, dato che ho cercato di entrare tra molte virgolette all'interno dell'industria capendo come funziona, qual è il primo step, qual è il secondo step e poi lo step conclusivo per rilasciare il progetto finale. Prendendo le mie esperienze da produttore, soprattutto non come scrittore o come cantautore, prima produco e dopo se c'è da mettere una voce la scelgo e insieme possiamo anche creare il testo. Non è che prima di passare alla base 1 cerco di sentire se anche al contrario possa esserci una melodia che possa essere per me o anche per molti orecchiabile. Soprattutto perderei anche i tempi, rischierei di far uscire quella canzone non proprio al momento giusto ma proprio nel momento meno opportuno. Tenete a mente questa cosa, bisogna anche stare attenti ai giorni. Secondo voi perché alcuni cantanti e alcune band ci mettono così tanto tempo per rilasciare il disco quando ce l'hanno già pronto da un non so quanto tempo? Perché devono rispettare diverse date, diverse date di venerdì, attenzione. Il perché il venerdì è sempre il giorno giusto per annunciare qualcosa, sinceramente non lo so, mi dovrei andare a informare di più su questa cosa. Quasi quasi quando mi metto a riguardare video su YouTube di gente che crede che queste cose qua siano reali, ci rimango a male anche per i cantanti stessi. Avere una fanbase dove tra l'altro credono di continuo attraverso versioni neanche ufficiali di quelle canzoni, che loro siano veramente i satanisti e che siano pronti da un momento all'altro fare qualcosa di sbagliato, qualcosa di brutto, che loro non possono far vedere davanti a una videocamera o far ascoltare all'interno delle canzoni, quando magari loro sono i primi a dire alla loro fanbase di non supportare queste cose. Vabbè ci sarebbero anche alcuni casi in particolare entrando un po' nel mio mondo all'interno del rap. Dove sì, ci sarebbero effettivamente canzoni con messaggi subliminali? Non a caso molti artisti della scena rap italiana tendono a cercare di sperimentare su tantissime cose, non soltanto in scrittura ma anche in produzione, a differenza di magari altri artisti pop popolari che si sentono spesso in radio. Un esempio può essere di Caperezza, di Fabri Fibra, dove nelle canzoni meno conosciute appunto, nell'ultima traccia del suo primo album, non mi ricordo neanche il nome della traccia però, diceva una cosa del tipo hai rotto il cazzo con sto disco. Non a caso hai rotto il cazzo con sto disco è un chiaro riferimento a quello che viene fatto nel disco dopo ma allo stesso tempo nel disco stesso in cui è inserita la traccia. Di fatto se voi sentite quel disco là è molto malinconico, si è paragonato poi agli altri dischi che sono usciti dopo nella discografia di Caperezza, probabilmente anche per la sua introspettività interna. Per poi ripartire con il disco dopo, e la prima traccia se non erro non vorrei sbagliarmi è il secondo secondo me, e alludo un po' i suoi fan e anche se stesso dicendo nel ritornello il secondo album è sempre il più difficile, e ora da caso lui è riuscito a rendere il secondo album più comprensibile sia a lui e sia al pubblico che magari non l'aveva compreso bene nel disco prima. Da questo esempio potete già capire le differenze. Credo di aver finito il discorso, quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video, iscrivetevi a questo canale, ciao, alla prossima!